La tecnologia UNITE integrata in PTC CRIO offre agli utenti funzionalità innovative in grado di incrementare la produttività negli ambienti multicad. Le organizzazioni possono consolidare i sistemi CAD in modo più efficiente e gli utenti di diversi sistemi collaborare in modo più efficace. Ciò consente ai team di progettazione di ridurre la quantità di lavoro ridondante, ottenendo così prodotti migliori e più appetibili e una maggiore puntualità nelle consegne. Con la tecnologia UNITE gli utenti possono convertire i dati di altri sistemi CAD, come Autodesk, CATIA, Siemens NX, Solid Edge e SolidWorks, in dati PTC CRIO, senza necessità di utilizzare il sistema CAD originale o ricorrere a integrazioni o librerie aggiuntive. Ma a differenza di altri sistemi CAD 3D, la tecnologia UNITE consente ai progettisti di aprire facilmente i dati CATIA, Siemens NX e SolidWorks, in PTC CRIO, e di incorporarli direttamente nei progetti, senza doverli convertire in oggetti PTC CRIO. L'impegno richiesto per l'integrazione dei dati risulta così ridotto in modo significativo. Inoltre, non vengono creati file aggiuntivi. Inoltre, se il task di sviluppo prodotto richiede una modifica a una delle parti incorporate, PTC CRIO consente agli utenti di convertire solo la parte e gli assiemi padre e associati strettamente necessari, anziché richiedere la conversione di tutte le parti dell'assieme. È anche semplice apportare modifiche alla geometria convertita. Grazie alle funzionalità di modellazione flessibile disponibili in PTC CRIO Parametric, gli utenti possono modificare la parte convertita in modo facile e veloce, per soddisfare i requisiti di progettazione. Con le estensioni di collaborazione PTC CRIO, queste capacità multicad sono ulteriormente migliorate. Ora i progettisti sono in grado di integrare gli aggiornamenti ai dati non PTC CRIO in modo semplice e rapido, salvaguardando al tempo stesso la finalità di progettazione stabilita. In questo caso viene integrata una versione aggiornata di un motore creato in Siemens NX. Gli smorsatori delle vibrazioni si adattano automaticamente alla forma della nuova superficie, mentre la staffa in lamiera si adatta automaticamente al nuovo posizionamento dei piedini di montaggio. Poiché tali aggiornamenti vengono integrati, la protezione della finalità di progettazione va ben oltre la semplice modellazione 3D, ma arriva a includere le informazioni necessarie al processo industriale, come la documentazione 2D, le simulazioni e l'attrezzaggio. In più, con le estensioni di collaborazione PTC CRIO, i progettisti possono scambiare modelli PTC CRIO nei formati CAD più comuni, come CATIA, Siemens NX e SOLIDWORKS. Grazie alla tecnologia UNITE, PTC CRIO consente agli utenti di importare e aprire file in formati diversi da PTC CRIO, di salvare dati in formati diversi da PTC CRIO e di creare e mantenere le finalità di progettazione tra diversi formati CAD. Tutto questo permette alle organizzazioni di consolidarsi con sicurezza su una singola piattaforma CAD e trarre vantaggio dalle funzionalità di collaborazione multicad migliori della categoria.